Nel 1970 il giovanissimo regista Dario Argento gira il giallo l'uccello dalle piume di cristallo e nel giro di un anno e mezzo sforna altre due pellicole Il gatto ha nove code e quattro mosche di veluto grigio Il successo inaspettato di questi film ha dato il via a un susseguirsi di animali nelle locandine cinematografiche dei film di quegli anni In breve tempo queste locandine si riempiono di uccelli, gatti, mosche, lucertole, tarantole, sanguissughe, farfalle, anguille, cobra, volpi Trasformando i cinema in veri e propri zoo Tant'è che secondo alcune voci non confermate anche il WWF e Piero Angera si sarebbero interessati al fenomeno L'insieme di film gialli italiani, denominato da alcuni critici come Spaghetti Giallo per fare il verso allo spaghetti western che prosperava negli stessi anni ebbe quindi un sottoinsieme di film che non erano soltanto dei gialli made in Italy ma avevano anche degli animali nei titoli per cavalcare la moda lanciata da Dario Argento In realtà già prima del 1970 c'era stato qualche giallo italiano che aveva degli animali nei titoli ma nessuno di questi aveva mai dato origine a un vero e proprio filone Il primo tra tutti è Al guffo nero di Carlo Campogagliani del 1915 Purtroppo questo viene considerato un film perduto Non si conosce quasi nessun fotogramma di questa pellicola Il film narra di una serie di delitti che ha luogo in una locanda che è denominata appunto Al guffo nero Forse sul web sono reperibili giusto una o due immagini di questo film Il secondo è Il serpente a sonagli del 1935 di Raffaello Matarazzo con Nino Besozzi nei panni dell'ispettore Franz Un giallo che abbia anche un discreto successo sia di critica che di pubblico Purtroppo ne sono rimasti soltanto pochi fotogrammi e il film è anche esso considerato perduto Nonostante sia il 1935 e quindi ci siano dei film ben più vecchi che ancora si possono vedere questo non si capisce bene che fine abbia fatto La trama narra di un diritto che avviene in un collegio femminile ai danni di un'istitutrice molto severa Durante la notte alcuni testimoni riferiscono di aver udito un sibilo molto forte simile a quello di Un serpente a sonagli Da qui il titolo E' un vero peccato non poter vedere questo film anche perché Matarazzo è un regista che ha dimostrato il suo talento anche nel genere del melodramma firmando tante pellicole con protagonista il grande Amedeo Nazari Il terzo titolo è La Iena di Londra di Gino Mangini che raccolta la storia di un serial killer che viene catturato e condannato poi viene giustiziato ma prima di essere sepolto il suo cadavere scompare misteriosamente In un piccolo villaggio prende il via una catena di delitti che vengono eseguiti con la stessa tecnica del serial killer Gino Mangini firma questo titolo con lo pseudonimo di Henry Wilson probabilmente perché sia nei romanzi che nei film il nome straniero attirava di più il pubblico rispetto a quelli italiani Il quarto titolo è Il giorno della civetta del 1968 un giallo di ambientazione siciliana tratto dal romanzo di Leonardo Sciascia con Franco Nero e Claudia Cardinale La regia è del grande Damiano Damiani un regista che ha confezionato diversi film di denuncia sociale e polizieschi di ottima fattura Il quinto titolo è Una Iena in casaforte del 1968 con la regia di Cesare Canevari Questo è il film che più di tutti ha ispirato le Iene di Quintin Tarantino soprattutto nella crudeltà che viene mostrata tra i rapinatori nel momento in cui sono costretti a stare a stretto contatto in un ambiente chiuso Poi il sesto titolo è L'uccello delle piume di cristallo di Dario Argento già citato che ha dato il via al filone da questo momento in poi i film con gli animali nei titoli in particolare i film gialli saranno veramente tantissimi soprattutto concentrati nei primi tre anni a partire dal 1970 Il settimo film è Uccidete il vitello grasso e arrostitelo di Salvatore Samperi in cui si segnala l'interessante presenza di Mari Luttolo, Jean Sorel e Pierpaolo Caponi tre presenze fisse dei gialli italiani di quegli anni Arriviamo al 1971 con Il gatto a nove code il secondo film della trilogia degli animali di Dario Argento questo film è sempre stato considerato il peggiore dei tre probabilmente per la sua trama molto articolata e il cast americano ma in realtà ultimamente è stato molto rivalutato perché rimane un giallo di ottima fattura è comunque ben al di sopra del prodotto medio che si poteva vedere all'epoca soprattutto quelli confezionati dagli imitatori passiamo poi a una lucertola con la pelle di donna di Lucio Fulci un bellissimo giallo con protagonista Florinda Bolkan e delle notevoli atmosfere oniriche legate agli incubi della protagonista poi abbiamo un'anguilla da 300 milioni con cui Salvatore Samperi dopo Uccidete il vitello grasso e arrostitelo fa il bis con un altro giallo che ha tre protagonisti anche il grande Mario Adorf abbiamo poi La bestia uccide a sangue freddo di Fernando Di Leo questo film malgrado abbia un intreccio giallo veramente debole rimane veramente affascinante per l'ambientazione infatti è ambientato in un manicomio criminale che ha come sede un antico castello con delle grosse armi appese ai muri una cosa veramente incredibile e poi ha tra i protagonisti Rosalba Neri anche lì una presenza fissa dei gialli di quegli anni La tarantola dal ventre nero di Palo Cavara è un giallo che non si discosta molto dagli schemi tipici del giallo argentiano ma si fa notare per la presenza nel cast di Giancarlo Giannini e Barbara Busce poi abbiamo la cosa dello scorpione che viene considerato uno dei gialli meno riusciti di Sergio Martino anche se in realtà ha diversi spunti interessanti poi abbiamo dopodiché uccide il maschio e lo divora qui apparentemente non vediamo nessun animale nei titoli ma lo vediamo disegnato direttamente nella locandina la locandina per coloro che non avessero mai visto quark scrive in piccolino sotto il titolo mantide religiosa cioè fa capire che la mantide religiosa è l'animale che uccide il maschio e lo divora dopo l'accoppiamento quindi questo giallo insegna anche qualcosa di scienza naturale allo spettatore non sono mai riuscito a vederlo questo film quindi se qualcuno di voi lo avesse magari me lo scriva L'Iguana dalla lingua di fuoco questa del grande maestro Riccardo Freda che è veramente un bel film anche se nello sviluppo della trama è molto confuso diciamo che rimedia con alcune sequenze molto indovinate con la presenza di Luigi Pistilli e Valentina Cortese poi abbiamo Nella stretta morsa del ragno di Antonio Margheriti che è il remake di Danza Macabra quindi lui così come Hitchcock aveva fatto con l'uomo che sapeva troppo anche Margheriti è tornato su un suo film per farne il remake questo può essere considerato un giallo se si considera a fine pellicola come parto della mente del protagonista tutto ciò che vede durante il film altrimenti se si dà un'altra lettura quindi si considera vero tutto quello che egli percepisce allora sarebbe un horror comunque anche qua abbiamo sempre l'animale nel titolo poi abbiamo Giornata nera per l'ariette di Luigi Bazzoni che io considero uno dei migliori gialli argentiani veramente bello con Franco Nero con il Savon Fustenberg che purtroppo è scomparsa proprio quest'anno poi una farfalla con le ali insanguinate di Duccio Tessari questo è veramente un bel film perché rispetto ai gialli dell'epoca offre un punto di vista diverso in quanto è ambientato per la maggior parte nell'aula in cui si svolge un processo anche qua abbiamo il particolare rivelatore che ha introdotto argento con l'uccello dalle piume di cristallo tra i protagonisti abbiamo Silvano Tranquilli e Helmut Berger arriviamo poi alla corta nota delle bambule di vetro anche qui si potrebbe obiettare che nel titolo non c'è nessun animale in realtà c'è ma non si vede perché sotto la scritta bambule di vetro appiccicata sulle locandine dopo che erano già state affisse c'era la parola farfalle infatti il titolo originale era proprio la corta nota delle farfalle Aldollado però è stato battuto sul tempo da una farfalla con le ali insanguinate che era uscito qualche settimana prima e per non incasinare gli spettatori si è deciso con la produzione di cambiare leggermente il titolo mettendoci la parola bambule di vetro sopra farfalle che purtroppo però non c'entra una mazza con la trama mentre farfalle aveva un senso per lo stato di trasformazione che fa la farfalla da bacco fino a diventare il meraviglioso animale che è che è un po' la trasformazione che ha anche il protagonista quindi diciamo che c'era una qualche coerenza tra il titolo e la trama però è andata così poi subito dopo abbiamo l'occhio del ragno che viene considerato in bilico tra il giallo e il poliziesco si segnala per la regia di Montero che è il regista di rivelazioni di umaniaco sessuale al capo della squadra mobile per la presenza nel cast di Klaus Kinski poi abbiamo 4 mosche di veluto grigio che chiude la trilogia degli animali di Dario Argento e che come al solito diciamo che si eleva una spanna sopra rispetto a tutti i suoi imitatori dopodiché abbiamo il sorriso del ragno anche qui come per l'occhio del ragno siamo in bilico tra il giallo e il poliziesco abbiamo poi l'uomo più velenoso del cobra un giallo che io trovo molto somigliante per l'ambientazione e le atmosfere al tropico del cancro tra gli attori vediamo Erika Blank e Alberto De Mendoza due facce molto notte nei gialli italiani di quell'epoca dopodiché abbiamo il sorriso della Iena da poco uscito in alta definizione che ho trovato veramente interessante con un bello spunto un bello sviluppo in cui anche una discreta attenzione al contrario invece La Volpe dalla Cosa di Belluto è un giallo con Jean Sorel che si caratterizza per un ritmo molto lento e quasi soporifero poi abbiamo La Gatta in Calore con Silvano Tranquilli e poi Non si servizia un paperino quello che viene considerato uno dei capolavori di Lucio Fulgi questo film come si può notare si intitolava originariamente Non si servizia a paperino ma per evitare quelli con la Disney è stato aggiunto l'articolo in determinativo però per protesta è stato messo di un colore grigio scuro in modo che non si vedesse da lontano con lo sfondo nero un'idea veramente geniale perché così da lontano un miope vede comunque il titolo originale non si servizia a paperino un film veramente forte notevole come Barbara Busce e Thomas Millian ambientato nella immaginaria accendura che in realtà esiste veramente sarebbe un paese di accettura Poi abbiamo La morte negli occhi del gatto che è mascherato da un finto horror gottico ma in realtà è un giallo ereditario qui si segnala la presenza di Jane Birkin e di Venantino Venantini Il ventottesimo film di questa rassegna è Il bacco da setta un giallo di Mario Sequi con protagonista George Hilton Poi abbiamo Cani arrabbiati del grande Mario Bava un film che è stato sequestrato e ha avuto diversi problemi di produzione e tantissimi montaggi nel montaggio originale ha un bellissimo finale a sorpresa e quindi può essere considerato un vero e proprio giallo nonostante le varie vicende mostrate lo facciano somigliare più a un poliziesco Dopodichè abbiamo L'assassina costretta a uccidere ancora di Luigi Cozzi sicuramente il suo miglior film con protagonista ancora una volta George Hilton questo film apparentemente non ha un animale nel titolo ma viene messo in questo elenco perché il suo titolo originario come si vede dai titoli di testa e anche dalle foto di scena è Il Ragno Il Ragno come titolo originale è stato utilizzato anche per le edizioni in VHS della Gong Video e della Cosmo Video mentre nell'edizione in DVD della Perseo Video è ritornato l'assassina costretta a uccidere ancora il trentesimo film di questa rassegna è Il Giallo di Umberto Lenzi Gatti Rossi in un labirinto di vetro un film ambientato in Spagna con delle bellissime musiche di Bruno Nicolai il trentunesimo film è La Sanguissuga conduce alla danza ambientato in un castello e con protagonisti Giacomo Rossi Stewart e Femi Benussi Il trentaduesimo film è invece Il Gatto di Luigi Comencini un film che ha come protagonista Ugo Tognazzi affiancato da Mariangelo Ammerato si trova anche in una piccola parte Darila Di Lazzaro il trentatresimo film è Il Desideri Morbosi di una Contessina che però è un titolo che ha sostituito Fate la nanna Coscini di Pollo che era il titolo originale preso da una filastroca per bambini la dimostrazione che questo era il titolo originale l'abbiamo anche da un'immagine di fine primo tempo di una proiezione dell'epoca arriviamo quindi al 1978 in cui si ha il film che viene ufficialmente considerato come la pellicola che conclude questo sottogenere dei gialli con gli animali nei titoli questo è Il Gatto dagli occhi di Giada un bellissimo film di Antonio Bido che può essere considerato un giallo argentiano ma in realtà presenta uno stile tutto suo solo in alcuni passaggi soprattutto durante le indagini del protagonista può ricordare alla lontana Profondo Rosso poi per completezza abbiamo Black Cat di Lucio Fulci come una crisalide di Luigi Pastore che in realtà potrebbe essere considerato un vero e proprio omaggio a tutto il genere del giallo con gli animali nei titoli poi per ulteriore completezza si può considerare in questa rassegna anche Profondo Rosso in quanto il suo vecchio titolo di lavorazione era La tigre dai denti a sciabola Dario Argento poi decise di non proseguire questa serie di titoli con gli animali perché c'erano stati veramente troppi titoli degli imitatori e quindi ha preferito distinguersi con il titolo Profondo Rosso anche se in realtà la produzione voleva imporgli il rosso profondo ci sono poi una serie di titoli che non appartengono al genere giallo ma hanno comunque un animale nel titolo il nido del ragno che è un horror poi la cura del gorilla che è una sorta di poliziesco la lupa mannare che ha un genere quasi indefinibile visto che ne mischia diversi la notte degli squali poi la rossa notte del falco che è noto per aver mischiato sapientemente il giallo col western un esperimento quasi unico nella cinematografia italiana poi la orca l'ultimo squalo Mamba che si caratterizza per le atmosfere claustrofobiche essendo ambientato tutto in un appartamento Raz notte di terrore shark rosso nell'oceano tentacoli e vai gorilla che risulta di genere poliziesco e infine abbiamo will be belve feroci che è una commistione tra fantascienza e horror e poi il trescissimo Alex lariete poi per un'ulteriore completezza si possono citare due gialli che sono stranieri ma hanno sempre un animale nel titolo e sono quattro farfalle per un assassino e il cigno dagli artigli di fuoco stavo quasi dimenticando un ultimo titolo che però non è un vero e proprio giallo ma rientra nel genere thriller poliziesco che è come cani arrabbiati un film che per le situazioni e la trama ricorda molto San Babi Laura e Venti un delitto inutile se poi qualcuno di voi si ricordasse di qualche titolo che hanno inserito in questa rassegna magari me lo scriva nei commenti grazie a tutti